Ho letto le dichiarazioni dei gruppi di minoranza al termine della riunione della prima commissione di stamattina. Subito intendevo non rispondere, poi rileggendole ho ritenuto opportuno di fare, non tanto nei loro confronti, ma nei confronti dei Liguri che leggono queste informazioni e alcune precisazioni. Vedete, cari colleghi della minoranza, capisco la differenza tra noi e voi. Noi tutte le mattine ci alziamo e abbiamo qualcosa da fare nell'interesse dei Liguri. Voi tutte le mattine vi alzate e avete qualcosa da dire nell'interesse dei vostri partiti. Però se perdeste meno tempo a contare i componenti della maggioranza per vedere se un'eventuale chiusura di uno di noi in ascensore faccia mancare per 5 minuti il numero legale, potendo così uscire dall'aula facendo magari non approvare un provvedimento importante per il futuro della Liguria e vi concentraste un po' di più nel merito delle cose. Forse un giorno potreste ambire a ritornare ad essere maggioranza in questa regione e non essere condannati al Banco dell'Asino, dove ahimè i Liguri vi hanno relegato. Nella fattispecie, quello che chiedevate stamattina, dopo pochi minuti è stato dibattuto. È vero, mancava una relazione, una relazione che non era il trasporto pubblico locale che è già stato approvato in commissione e andrà oggi pomeriggio in aula, ma era solamente un emendamento di una piccolissima norma finanziaria che doveva avere la compatibilità della prima commissione. Tanto è vero che dieci minuti dopo, quando la relazione è arrivata, voi non c'eravate più. Non c'eravate per votarla, perché di quello che diceva quella norma, a voi non fregava niente. A voi fregava trovare un'occasione per far polemica, lo avete fatto. E adesso che avete fatto polemica, come tutte le altre volte, lasciate spazio, lasciateci lavorare. Noi abbiamo da governare la Liguria e mettere a posto i tanti disastri che abbiamo da voi ereditato.